Ancora una volta Napoli è protagonista di Buone Pratiche per la raccolta differenziata, con una formula divertente, quella del gioco, si punta ad avvicinare i cittadini ai temi del riciclo informandoli sulle potenzialità di carta e cartone. L'iniziativa Carta al Tesoro è organizzata da Comeco con il Comune ed Asia e coinvolgerà adulti e bambini organizzati squadre in percorsi e quiz sulla differenziata dei materiali a base cellulosica. La gara prenderà il via domenica 25 marzo da piazza Plebiscito e si concluderà presso il centro di raccolta di via Giovanni Antonio Campano, in palio per i primi classificati 3.000 euro in buoni spesa. Abbiamo la possibilità di iscriverci direttamente sul posto, quindi in piazza Plebiscito dalle 9.30 alle 10.30 o andando sul sito di Comieco www.comieco.org cercando Carta al Tesoro dove ci sono tutte le informazioni necessarie per poter iscriversi in modo anticipato. Questa Carta al Tesoro è l'occasione con la quale pensiamo assieme ad Asia e all'amministrazione comunale che i cittadini di Napoli possano avere un'opportunità in più per conoscere come si fa bene la raccolta differenziata di carte e cartone e che cos'è il ciclo del riciclo. Infatti la Caccia al Tesoro si baserà essenzialmente su una serie di quiz che dovranno essere risolti da gruppi che potranno essere formati da 3 a 5 persone. La presentazione dell'iniziativa è stata occasione per fare il punto sulla raccolta di carta e cartone in città e ribadire l'importanza del corretto smaltimento di questi materiali. 38.000 tonnellate solamente nell'ultimo anno, un incremento del 25% negli ultimi tre anni. Un impegno molto importante su questa raccolta che tra le raccolte che ha consentito per la città di Napoli di arrivare al 36% di raccolta differenziata. Un impegno costante che soprattutto con l'aiuto di Comieco così come oggi con questa iniziativa che noi stiamo andando a presentare. Non tutti danno la dovuta attenzione al riciclo di questo materiale, quindi è un modo per ridare attenzione e per far capire che l'impegno sulla differenziata è un impegno in cui ognuno deve fare la propria parte, come diciamo anche nel nostro slogan, fa la tua parte differenza. Noi come azienda, come Asia facciamo la nostra parte, i cittadini devono fare la loro parte e Comieco si impegna a far sì che poi questo materiale possa essere debitamente riciclato e ritornare di nuovo carta e cartone da poter essere utilizzato poi da noi un'altra volta. È importante che i cittadini sappiano, quindi adesso gli alibi stanno per finire ed è importante la cosiddetta cogenerazione del servizio. Noi raccogliamo bene se il cittadino separa bene. L'uso della carta è importante, sta crescendo l'uso della carta, quindi è importante la consapevolezza anche nel recupero della carta e il consorzio, devo dire, ha avuto sempre un'attenzione molto particolare per Napoli, stiamo migliorando nella nostra qualità, quindi quando bisogna conferire cartoni, carte, non rompete le scatole, riciclatele.